Precipita per un centinaio di metri durante un'escursione sopra Colloro, in Val Grande. Per lui non c'è stato nulla da fare. La vittima è Claudio Paganoni, 70 anni, di Domodossola. L'allarme era scattato ieri sera, lanciato dalla moglie per il mercato rientro a casa dell'uomo dopo una gita all'Alpe Saler, sulle alture di Premosello. Il marito aveva chiamato in tarda mattinata riferendo alla signora di aver perso il sentiero. Stava cercando di recuperare la traccia per andare poi a recuperare l'auto. Subito si sono attivate le ricerche da parte del soccorso alpino Decima Delegazione Valdosso, la soccorso alpino della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco e Carabinieri Forestali del Parco, che sono proseguite per buona parte della notte. Troppo tardi per i solvori dell'elicottero, anche perché quello disponibile si trovava a Genova e sarebbe arrivato con il buio. Intorno alle 23 il SACF è riuscito a localizzare il cellulare di Paganoni, così le squadre che erano già rientrate sono ripartite verso quell'area. Complici il buio e le difficoltà di muoversi sul territorio, ad un certo punto le ricerche sono state interrotte, ma il personale del soccorso alpino ha dormito all'arpe la colla per poter riprendere le operazioni di prima mattina. Alle 7 di oggi, individuato lo zaino dell'uomo, l'intervento dell'elicottero dei Vigili del Fuoco ha permesso poi di trovare il corpo di Paganoni, sotto la direttrice dello zaino, purtroppo deceduto a causa di una caduta di oltre 100 metri. La salma è stata quindi recuperata e portata al campo sportivo di Premosello per le operazioni di polizia giudiziaria.